Dopo l'uscita della maggioranza della cosiddetta componente renziana abbiamo assistito a una paralisi del Consiglio Comunale. Un Consiglio Comunale che avrebbe dovuto approvare già l'anno scorso il piano delle opere pubbliche predisposto dall'amministrazione comunale e che dopo dieci mesi di insistenza non ha ancora provveduto ad un atto dovuto, impedendo in questo modo nel concreto e nello specifico di riattivare il forno crematorio e al tempo stesso di realizzare un campo di inumazione per il quale l'amministrazione ha già provveduto ad acquisire i progetti e i risorse necessarie per intervenire. Di fronte a questo comportamento irresponsabile del Consiglio Comunale e di questa nuova maggioranza del Consiglio Comunale mi sono assunto ogni responsabilità, pronta evidentemente a far valere la responsabilità di chi ha reso questa condizione inaccettabile, in danno del dolore e delle sofferenze dei familiari dei defunti. Ho anche al tempo stesso disposto l'immediata attivazione di una convenzione che nel frattempo abbiamo realizzato con un altro cimitero cittadino, il cimitero di Sant'Orsola, per poter utilizzare le oltre mille posizioni, oltre mille loculi che sono stati resti disponibili grazie a questa convenzione. Spero in questo modo di poter dare una risposta al dolore dei familiari, ai diritti dei cittadini, manca al tempo stesso, se mi consentite, un richiamo ad un Consiglio Comunale che con l'attuale maggioranza certamente è inadeguato rispetto all'emergenza che stiamo vivendo. I padri di ordinanza esistono anche per sopprire alle inalempienze di organi dell'amministrazione comunale e questo ho fatto.